rivoluzione nel viale marconi e i disagi si fanno sentire anche nelle vie nuove battute dal traffico come in via galbani fausto baire qual è la situazione quello che ha fatto questa cosa che è un genio è solo un genio guarda non posso dire altro molto traffico molto traffico sicuramente il lavoro diminuirà almeno al 50 per cento come mai lei è un cardossiere tra l'altro sono un carburatorista l'unico rimasto a cagliari e ha a che fare con le auto hanno deciso di farmi chiudere perché perché hanno fatto un senso unico quindi non fa entrare le macchine devo fare il giro per riportare tutte le macchine lei da quanti anni è qui io sono 35 anni non c'è proprio nessuna soluzione magari un abituarsi col passare del tempo può essere non lo so è stato solo un genio questo che ha creato questo il progetto è comunque datato e di qualche anno il comune ha deciso di dare gambe qua adesso possiamo ci un attimo qui accanto al marciapiede prima il senso di marcia era l'opposto era doppio senso era doppio senso ora invece il senso unico adesso però c'è la possibilità io non posso uscire con le macchine quando c'è il traffico qua non mi fanno uscire perché hanno la precedenza quindi logicamente c'è molto disagio c'è molto disagio anche tutti gli altri artigiani che sono qua nella zona lei dice io con questa rivoluzione del traffico addirittura sarò costretto a chiudere così grave non mi ha fatto chiudere la pandemia ma mi fa chiudere l'assessore perché qua comunque quali rischi ci sono adesso col col cambio di marcia allora qui il cliente non si può più fermare quindi dove devo andare a seguirlo devo andare a seguirlo più giù via cettigni o in via mercalli nello ferrato non ho parole non ho parole lei quanti è mia 62